Ah, le donne forti si rivelano sempre un incubo, come Giovanna d'Arco Ehi ragazzi, io non sono come le altre donne, io uccido la gente, il rutto e guardo film porno, non è pazzesco? No Mi piacciono i film demenziali che alle altre donne non piacciono, il mio videogame preferito è Call of Duty Cercatemi, sono Guitar Gour 176 Bruciamo questa donna a rugo Adoro le bistecche, le altre donne no, io sono un vero maschiaccio Ehi ragazzi, non entrate in camera mia, magari mi sto sgrillettando